Continua il viaggio di La F alla scoperta di come i libri possono cambiare una vita. Questo libro mi ha decisamente aperto un'autostrada. Un mosaico di voci e sguardi per raccontare l'amore per i libri e per la lettura. Era un libro che mi costringeva a capire dove la vita mi volesse portare. Lettori, i libri di una vita. In onda sulla F e disponibile on demand.